E se il mondo girasse al contrario? E se le normali cose fossero tutte all'indietro? Se le viste normali fossero tutte normale? E se le botte normali fossero tutte diverse? E se le cigarette normali fosse, ero tutte diverse? E se le cigarette normali fosse, ero tutte diverse? Noi, noi le normali sedute al bar erano tutte anomale david di sasso and pelato e con la storia di partecipazione di master baudia un film che va con un grande real